Oggi parleremo di mare, di oceani, di salute, dell'infrastruttura blu più grande del nostro pianeta che connette tutti i territori e della quale dobbiamo sicuramente prenderci un onere e un carico di responsabilità. Per troppo tempo l'economia è stata lineare, ora dobbiamo chiudere un loop e renderla circolare. Dobbiamo cambiare i nostri comportamenti perché il cambiamento climatico lo possiamo mitigare soltanto se implementiamo politiche di mitigazione, quindi riduzione di emissioni e adattamento perché in ogni caso la terra e il mondo comunque sono cambiati. E ancorché per inerzia abbiamo bisogno di adattarci ad un ambiente che non è più così tanto solidale con noi ma ci presenta dei conti da pagare piuttosto salati. Oggi avremo modo di esplorare l'impegno e la capacità progettuale di molte realtà, non solo territoriali nostre, avremo modo di condividere le esperienze con realtà italiane che operano nel settore blu in questo caso e avremo anche modo di combinare dei messaggi di sostenibilità legati ad argomenti molto interessanti, quali ad esempio lo sport. Avremo uno spaccato sull'evento del gran finale di Ocean Race, Genova ospita l'arrivo della regata dell'Everest, della regata velica, la più importante, la più sfidante del mondo ed è proprio questo il messaggio. Gli equipaggi connetteranno tutti i territori del mondo, raccoglieranno dati per la tutela e la salvaguardia del mare e degli oceani e condivideranno questi dati per il beneficio di tutti. Oltre in modo importante è l'adesione del Comune di Genova recentissima alla Mission Charter della Commissione Europea Restore Our Water and Ocean. Questo significa ancora una volta non solo scrivere nero su bianco che ci impegniamo a collaborare con le diverse istituzioni per migliorare quello che è lo stato dell'arte e della salvaguardia dell'infrastruttura blu di cui accennavo, ma è soprattutto un impegno a collaborare e a scambiare, non reinventare azioni e progetti già implementati, ma piuttosto lavorare in un'ottica di sharing della conoscenza per essere più efficaci e fare prima. Tempo non ne abbiamo.